Mettere in rete gli appuntamenti più importanti per far conoscere i sapori, gli artigiani, la natura e il patrimonio archeologico di una terra ricca come il sud-est barese. L'idea è stata del GAL sud-est barese che da quest'anno ha messo insieme la festa del grano di Rutigliano e quella della ciliegia di Conversano, il balcone fiorito di Casa Massima e la festa della cipolla rossa di Acquaviva delle Fonti, solo per citare alcuni dei 12 appuntamenti in programma da maggio a dicembre. Oggi iniziamo con la rete, con la rete che non è solo un momento per far conoscere il nostro territorio, ma per far conoscere le diversità del nostro territorio. Infatti non si fermano solo alle fiere o alle sagre, ma vanno oltre, vanno sulla conoscenza, noi miriamo la conoscenza dell'intero territorio rurale del GAL. Infatti ci saranno delle manifestazioni che verranno interessate le nostre lame, verranno interessate tutti i monumenti rurali. Si comincia domenica prossima a Noe Cattaro con NOA in festa, sapori e musica nel borgo. L'attenzione però non sarà focalizzata solo sui centri storici perché per ogni appuntamento sono previste anche escursioni, ciclopasseggiate e visite nei siti archeologici.